Grazie, buongiorno, sono la dottoressa Vallottino e mi occupo essenzialmente di robotica. Oggi vi parlerò di questi identi Cooperating Objects for Industrial Automation e vi spiegherò un pochino meglio che cosa intendiamo con questa parola che è anche molto usata e usa. Robotica ovviamente è la classica applicazione industriale, la classica applicazione industriale sono i manipolatori, facciamo anche questo tipo di cose, scusate perché sono un utente Mac e i video non vanno, però essendo robotici noi facciamo cose che si muovono, volevo farvi vedere così e invece dovete credere sulla fiducia. Questi sono i manipolatori che abbiamo sviluppato e questo è quello che praticamente si intende come robotica industriale. Sviluppiamo anche prototipi di manicom e dispositivi per la manipolazione fine, ma la keyword che vi presento oggi è i cosiddetti Cooperating Objects. Che cosa sono per noi gli oggetti? In questo ambito per noi gli oggetti sono quindi dei veicoli autonomi, mobili, quindi dei robot che si muovono per esempio su ruote in un ambiente, in particolare applicate la logistica nell'industria. Questi sono gli oggetti. Cooperating perché ne pensiamo tanti in industria. Questi oggetti dovranno cooperare ovviamente con l'infrastruttura, quindi con sensori fissi, con l'infrastruttura di comunicazione e così via, ma dovranno anche cooperare tra di loro. Questo è ad esempio dei Kiva Systems, che sono questi sistemi, questi robot molto piccoli che passano sotto dei cannelli, risollevano le risposte all'interno dell'azienda e questi sono stati attualmente comprati da Amazon. Per dire anche l'applicatibilità di questo tipo di sistemi, Amazon attualmente nel proprio di magazzini utilizza sistemi di questo tipo. Perché abbiamo bisogno di cooperino? Vabbè, è abbastanza intuitivo. Se non cooperano la situazione questa è spiacevole o addirittura disastrosa. Questo ci sto per farla più leggera, ma qual è il problema che c'è di agio? Si, si devono coordinare, ma per fare questo hanno bisogno di comunicare. Quindi c'è tutta una sorta di problematica basata sul fatto che questi robot che sono mobili abbiano bisogno di comunicare tra di loro e con probabilmente un'infrastruttura fissa. Le problematiche che bisogna tenere conto quando si fanno questo tipo di sistemi e che appunto sono alla base dei nostri metodi risolutivi sono il fatto che bisogna prima di tutto garantire la sicurezza. Nel caso della formazione industriale bisogna garantire la sicurezza con l'uomo perché questi oggetti andando a convivere con l'uomo, con gli operatori del settore. Dovranno evitare l'ambiente, gli ostacoli classici e dovranno evitarsi da di loro. Dovremo anche garantire il fatto che i nostri algoritmi poi ovviamente vanno a migliorare l'efficienza del sistema magari abbassando nei costi e il futuro, poi vi sto parlando più o meno delle cose che stanno venendo fuori sotto, la keyword industry 4.0 che è una keyword lanciata dalla Germania essenzialmente, che in altri settori, in altri ambiti si chiama anche Cyber Physical Systems for Industrial Application. Sono effettivamente tutti requisiti attualmente richiesti anche nelle call del futuro prossimo, mai riuscente Horizon 20. L'eterogenità è fondamentale perché per noi gli agenti saranno diversi, saranno prodotti da carri diverse, saranno diverse in dimensioni, mobilità, funzionamento, in protocolli di comunicazione e così via. Quindi va tenuto conto il fatto che avremo Robocop per non diretti da loro che dovranno essere gestiti magari da un stesso tipo di algoritmo che sono anch'io. Probabilmente saranno tanti e i sistemi che vi farò vedere dopo, che sono delle carrelle elevatori prodotti dall'Electric 80, che è una tenda modenese, vengono comprate attualmente da vanilla, da tetra, per essere 30, 50, 60 nuovi impianti che stanno costruendo. Quindi in numeri sono elevati, non si possono creare algoritmi che sono pensati per 5 agenti, poi rifatti per 10, poi per 15 ogni volta che si fa un upgrade dell'azienda. E quindi anche questo è un problema che va tenuto in conto e infine la sicurezza. Ne avete sentito parlare stamattina nella presentazione del perfumessor Dini, bisogna anche garantire che i pacchetti che vengono comunicati tra gli agenti siano protetti in qualche modo per evitare che non ci siano attacchi e la sicurezza anche in termini di failure. Se ci sono dei guasti, cosa si può fare, come si possono detentare i guasti, come si può reagire a questi. Le applicazioni di questo tipo di problemi ne facciamo tante, ne facciamo in ambienti naturali, in ambienti sottomarini, in ambienti di applicazioni sempre sottomarini per l'archeologia, nella logistica industriale, per il reparto di cui vi sto parlando ora, è la Smart Cities. Ovviamente tutte legate a progetti che sono principalmente europei o Tesaurus, un progetto con la regione tostana. In tutti i nostri progetti però abbiamo una percentuale di partecipazione industriale che è importante. Il progetto in particolare che vi sto parlando attualmente è il progetto chat, in cui per esempio c'era la Siemens e è stata data ma attualmente a Siemens. E qui purtroppo c'è un video che non partirà, ma è quello che dimostra che noi abbiamo applicato questi abritmi, uno di abritmi abbiamo fatto su dei carrelli elevatori che ci ha visto a disposizione elettrica 80, proprio per far rimuovere un ambiente, in questo caso strutturato, in modo da garantire che non fosse necessario l'intervento dell'uomo nel caso di problemi. Per esempio un carrello elevatori si guastasse, attualmente la situazione è che tutto si ferma nell'intervenire l'uomo. Nel nostro caso invece potevano riconfigurarsi e rivenificare il traiettore, portando comunque a conclusione il lavoro. In questo caso non sono video ma sono figure animate che li funzionano. Abbiamo algoritmi di tipo basati su problemi di ottimizzazione in cui gli agenti possono diviare l'arrivo desiderato per poi riportarsi per in questo caso risolvere i conflitti, è un'applicazione del controllo del traffico aereo, oppure addirittura giocare sulla velocità. Questi sono esempi di problemi che più o meno ci siamo trovati ad affrontare, oppure l'alternativa è quello di dare delle regole, un po' come quelle del traffico, per cui sappiamo che se obbediamo le regole del traffico gli incidenti non ci sono. Applicare questa idea è generare dei protocolli basati su regole per i veicoli, anche in questo caso è sempre un'applicazione del controllo del traffico, per cui l'ambiente è il compro da muri, stanti e così via. E effettivamente qual'è la potenza di questi metodi? Che gli agenti devono soltanto comunicare tra di loro e devono comunicare un pochissimo numero di informazioni, essenzialmente in questo caso era soltanto dove sono, non cosa stanno facendo, cosa andranno a fare o quant'altro. Quindi molto molto snello, sempre per garantire come idea la sicurezza del sistema. Oppure ci affrontiamo altri tipi di problemi come nel caso a sinistra abbiamo clienti di classico task assignment, ci sono dei robot che devono andare a compiere dei compiti in giro per l'azienda, ogni robot è diverso, ha capacità diverse e quindi ha anche un costo diverso per effettuare il compito che magari è chiesto in quel momento e come si fa a fare in modo distribuito e efficiente, abbiamo trovato gli agritmi di questo tipo. Oppure noi agritmi su come gestire il traffico, in questo caso sarebbe più un'applicazione civile per il traffico urbano, cercando di minimizzare i cambi di velocità costante a cui siamo sottoposti attualmente e portano in elevato consumo di benzina. Quindi cercare di studiare anche questo tipo di problemi con questo tipo di strumenti. e io vi spase. Grazie.